Il terremoto che ha colpito la bassa modenese ha ferito il nostro territorio per i prossimi decenni. Ora parlare di ambiente e territorio ha e deve avere un significato diverso. La fase già avviata della ricostruzione deve diventare una grande occasione per avvicinarci all'Europa del 2020-2020 entro 2020. Dobbiamo accelerare le scelte già pianificate negli strumenti provinciali e comunali e dare il senso dell'innovazione che vogliamo avviare. Il patto dei sindaci, energie rinnovabili, risparmio energetico, uso delle risorse del territorio come le biomasse, etica, legalità, partecipazione delle comunità, una nuova socialità per il nostro territorio. Questi sono i capitoli di una nuova stagione di ricostruzione sostenibile che dobbiamo avviare.